Aveva un bellissimo rapporto, è stato il primo forse che ha creduto in me per quel che riguarda la musica perché anche lui era musicista e quindi a differenza degli altri non era scettico, era convinto più di me forse. Sentiva questa cosa del rap e diceva... Lui parlava di me in giro come se fossi già quello che sono diventato oggi, quando ancora non ero nessuno, per lui ero già il numero uno dei rap. Però insomma mi ha lasciato appunto una bella sensazione, sei andato comunque da genitore fiero e questa è una cosa importante. Penso che una delle cose più brutte che ti possano capitare nella vita è che ti viene a mancare qualcuno di caro quando non sei in buoni rapporti con questa persona. Ne conosco tanti che dicono che mi è mancato l'amico, il fratello, la madre, mentre magari avevamo litigato e non ci parlavamo. Invece il fatto che io e lui fossimo così legati diciamo che mi ha comunque sicuramente alleviato le sofferenze della perdita.